Ok ragazzi benvenuti, questo è il terzo ed ultimo l'ultima lezione. Vi invito a rimanere fino alla fine perché dopo c'è una novità interessante e quindi occhio alla penna. Allora il titolo di oggi è il mindset corretto per diventare polarizzanti e accendere l'attenzione dei clienti. Cosa significa innanzitutto essere polarizzanti? Significa sostanzialmente catturare l'interesse delle persone e tenerli attaccati a quello che devi fare, quello che stai facendo e quello che devi comunicare. Che è un po' la guerra che andremo a giocarsi da qui ai prossimi anni con l'avvento comunque dei social YouTube, Facebook eccetera eccetera. Vi ho messo giù otto punti, me ne ero dimenticato uno che vi aggiungo adesso. Ok? Che sono un po', come posso dire, la decriptazione di quello che io faccio. Mi sono sentito, ho dovuto cambiare quello che ho studiato e imparato eccetera. Mi sono fatto qualche appunto perché alcune cose mi venivano naturali per cui insomma ho bisogno di dirvi tutto e di conseguenza mi sono scritto le cose più importanti. Quindi, tema molto importante perché qui e qua, come vi dicevo, è un po' il futuro della nostra professione. Per cui catturare l'attenzione, fare in modo che le persone prima di entrare in contatto con noi a livello fisico abbiano a che fare con i nostri contenuti e con i nostri video, con le nostre comunicazioni, con tutta questa roba qui, diventa fondamentale per scaldare il pubblico, diciamo così. Ok? Per cui otto punti ve li dico, spero, cerco di essere il più semplice possibile, il più chiaro possibile e se non vi è chiaro qualcosa, niente, non mi potete dire niente, quindi fine. Allora, la prima cosa è che devi saperne l'argomento. Su questo non ti può aiutare assolutamente nessuno. È un po' come se vai dal ristorante, in un ristorante, il fatto che mangi bene è requisito minimo, non è che fa la differenza, cioè devi saperne. Ok? Quindi significa che insomma devi studiare, avere un minimo di, come posso dire, di esperienza nel campo. Anche se l'esperienza è, come posso dire, un qualcosa di flessibile, perché nel momento in cui tu decidi che è il tuo lavoro, vuoi fare le cose fatte bene, vuoi migliorare, vuoi buttarti su tutta questa roba che comunque mi ha dato una grande popularità nella mia nicchia, eccetera, 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 tu puoi andare a forzare il tempo. Ok? Come si fa a forzare il tempo tra la situazione in cui sei oggi e quella che vuoi diventare, in questo caso diventarne esperto, saperne, immergersi comunque nei contenuti, andare a studiare, blog, video, tutto quello che è. Tu vai nel mio canale Vendere Casa Bologna che è su YouTube e lì ci sono, non mi ricordo, quante centinaia di video e già lì ripetendo quella roba, non una volta, ripetendo e ascoltando le cose tante volte, ovviamente tu diventi un esperto di quella cosa lì. Dicono 10.000 ore, non so esattamente quant'è, non so se ne ho fatte di più o di meno, però è molto importante. Ragazzi, il saperne è il preambolo iniziale. Io posso magari sapere come gestire un video dopo che ne ho fatti tante, eccetera, però dell'immobiliare, se mi metti a parlare della carbonara, come si fanno i maccheroni e tirare i tortellini, faccio una figuraccia. Ok? Per cui requisito numero uno, ripetiamo insieme, bisogna saperne. Ok? Per cui studiate, fate quello che dovete fare, leggete, libri, contro libri, sul tema immobiliare, eccetera, eccetera. Ok? Abbastanza semplice. Seconda cosa invece che non è semplice. Devi essere naturale. Allora ragazzi, questa non è fiction. Ok? Voi quando parlate comunque di fronte a una camera, dovete registrare qualcosa, non dovete pensare di essere su canale 5, dove c'è un pubblico sul divano, cioè state parlando con i vostri clienti, gente che vi deve dare dei soldi. Per cui, perché il tema di essere naturale è così importante? Perché tendenzialmente, per quello che vedo io, la gente si trasforma immediatamente davanti alla camera diventando innaturale. Ok? Vediamo dopo cosa succede poi dalla parte del prospetto, del cliente che vede questa cosa qui. In naturale chi è? È una persona che nella vita normale parla in un modo e nel davanti alla camera parla in un altro modo. Per cui cambio modalità comunicativa. Ok? Cioè quando tu non sei abituato a parlare con certi certi termini eccetera, ragazzi si vede, cioè si capisce lontano meglio. Ok? Per cui questo è il preambolo per diventare naturale. Non utilizzare dei termini che useresti davanti a un cliente tutti i giorni. Primo discorso. Secondo discorso è, come posso dire, la prossemica, il modo comunque di muoversi. Ok? Per cui gesticolare. Io vedo dei miei colleghi, anche molto in gamba, che vedo nella vita normale tutti i giorni, eccetera, e si presentano in un modo. Le vedo davanti a un video e cominciano, sta roba qui non va, cioè si capisce che non sei tu. Ok? Questa roba è un'altra cosa che rende innaturale la comunicazione. E perché ragazzi è importante questa roba qui? Per la percezione che il cliente ha nel momento in cui ci guarda. Esiste una parte del cervello dai secoli, dei secoli, è quello che viene definito il cervello rettiliano, ok? Che è la parte più antica, quella che sostanzialmente doveva avvertirci di un imminente pericolo. Immagina un uomo delle caverne dentro una caverna che appena uscito vedeva praticamente una tigre dai denti a sciaboli e doveva scappare via. Ok? Il cervello rettiliano gli dava un impulso di dire stai attento, una situazione pericolosa, eccetera. Questo cervello rettiliano oggi, 2021, non ci serve più per scappare dalla tigra e leoni, ma per farci scappare dai potenziali pericoli. I potenziali pericoli derivano sempre, a livello comunque mentale, nei confronti di una persona che non ci sembra vera, che ci può fregare, che ci può nascondere qualcosa, che ci sembra suddola e tutta questa roba qui. Ed è una cosa che succede a livello inconscio, cioè non si può controllare dalla parte del cliente che ci vede e ci guarda. Ti faccio un'ipotesi. Quante volte ti è capitato che parlavi un minuto, 30 secondi con una persona e dicevi non mi fido. Qual era il motivo oggettivo che dopo 30 secondi, parlo a livello oggettivo, una persona ti potesse far pensare di correre un pericolo? Oggettivamente nessuno, ma probabilmente vedendo questa persona ci sono stati dei segnali che il tuo cervello ha percepito, tali per cui non ci fidiamo. Per cui i temi più classici sono quelli appunto di non sembrare reali nella comunicazione, di non sembrare reali in come si gesticola eccetera eccetera eccetera. Cioè la gente è allenata a rivelare, rilevare le cazzate. Quindi più naturale sei, siccome non siamo dentro un film, immagina, ribadisco, come ti ho detto prima, che sei davanti a un cliente. Cioè quando sei in presentazione davanti a una persona non è che è tutto perfetto, ok? Non è tutto perfetto, ma è anche questo il bello. Il fatto che davanti a lui sei vero, reale e la persona ti sceglie per quello che sei. Qui diventa invece un problema cercare di stravolgere il proprio modo di essere, ok? Sbagliatissimo. Per cui cerca di essere sempre naturale, non ti preoccupare che non succede niente, ok? Terza cosa è l'atteggiamento davanti alla camera, ok? Io scommetto, tu mi stai guardando, sei uno dei centinaia di persone che sta guardando questo modulo. Sicuramente hai capito che andare a produrre contenuti, farli girare eccetera è importante, però sei uno di quelli, correggimi se sbaglio, che non l'ho ancora fatto. Qual è il motivo? Il motivo ti do la risposta, è che sei, hai paura del giudizio degli altri. Dimmi se mi sbaglio. Hai paura del giudizio delle altre persone. Hai paura di quello che pensa il signor XYZ, gli agenti immobiliari che lo guardano, dicono guarda quello sembra uno scema eccetera eccetera. Questo è il problema per cui il consulenza privata è il problema di otto persone su dieci. Cioè otto persone su dieci hanno capito l'importanza di fare questa roba qui, di produrre contenuti, ma non lo fanno perché hanno paura del giudizio delle altre persone. Allora ti do un trick mentale e dopo ti dico altre due o tre cose per il quale tu dovresti subito, insomma, cancellare questo paradigma dalla tua testa. Innanzitutto non sono tutti gli a guardarti, prima cosa, ma si concentrano magari su altre cose, a meno che non sei una bella donna e ci sono giorni fuori, sennò è molto difficile. E l'altra cosa che ti racconto è che ho visto una statistica su Amazon, l'81% dei libri che si comprano su Amazon sono regali. Cosa significa? Che non legge nessuno, non studia nessuno ragazzi, per cui non è che sei, come posso dire, in un mastermind dove hai lì Montemagno e altri che sono lì a guardarti e diranno questo coglione. Cioè sei in mezzo a delle persone che fanno gli agenti mobiliari che magari non si sono mai esposti, quindi non hanno nulla da poterti giudicare. Per cui ti do un trick mentale tale per cui affrontare nella maniera corretta comunque la telecamera. Nel momento in cui adesso io sto registrando questa cosa, questo mini corso uscirà non so tra quante settimane, mesi, io di fronte alla camera vedo una persona, un mio studente che sta ascoltando quello che gli dico e annuisce facendo sì, ok? Annuisce facendo sì, perché io sono, passami il termine, il curo, sono quello che ne sa di più di questa roba qui. Nel momento in cui facciamo un'ipotesi con te, tu stai parlando a dei potenziali venditori e gli stai parlando di situazioni, esperienze nel campo immobiliare che tu hai vissuto un milione di volte e lo avranno vissuto mai o una volta. Chi è che ne sa di più dei due? Ok? Ne sai ovviamente più te, perché l'hai già vissuto, sei quello che ne sa, eccetera. Il fatto che tu ne sappia e divulghi il contenuto deve far sì che stai parlando con una persona che ne sa molto meno di te. Lascia stare tutti gli agenti immobiliari, non sono il nostro target. Nel momento in cui tu vuoi produrre contenuti, insomma, che hanno come target persone che vogliono vendere. Quindi sgombera il campo, guarda davanti alla camera, fai finta di avere un cliente che deve vendere, un tuo vecchio cliente a cui hai fatto un gran bel lavoro, che guarda e dice sì, è proprio così, Simone, Francesco, Francesca mi ha aiutato a vendere casa, ascoltatelo perché è così. Molto importante immaginarsi che non ci sia uno schermo, una camera, ma ci sia un tuo vecchio cliente passato a cui hai fatto un gran lavoro e che sta parlando bene di te. Ok? Per cui, importantissimo, ricapitoliamo. Studia, devi saperne. Cioè, non c'è assoluto, quello non ti posso aiutare. Devi sapere. Due, devi essere naturale, come se fossi una presentazione. Se fai un video, non cancellarlo venti volte e ricominci perché ti sei dimenticato una virgola, hai sbagliato una cosa. Vai avanti, ok? Vedo gente che per fare un video di quattro minuti di questo tipo lo fa ripartire cento milioni di volte. No, devi andare, ragazzi. Ok? Terza cosa, cerca di capire che non stai parlando davanti a una camera, ma stai parlando a un potenziale persona che deve vendere, o, ancora meglio, un tuo vecchio cliente passato che ha avuto una grande esperienza di te e sta morendo dalla voglia di sentire cosa dire su quel tema specifico per vendere casa al meglio. Ok? Molto, molto bene. Ok? Quarto punto. Allenamento. Allenamento. È chiaro che se tu vai a vedere un mio video dell'ottobre-novembre 2019, la cosa era completamente diversa, te lo vai a vedere, ogni tanto lo vedi, però non lo voglio cancellare, perché mi piace anche far vedere a gente come te come è nato all'inizio, che non eravamo degli illuminati dal cielo, che ero nato davanti a una camera, anzi, non sapevo neanche come si accendesse, e è chiaro che dopo che fai 300 video, 400 video, come ogni cosa lo impari. Ok? Un po' come il bambino, che all'inizio è gattona, poi comincia a camminare un po' e poi magari dopo 18 anni diventa il miglior velocista del mondo. Ok? Tutto parte comunque sempre da una situazione di base come lo era per me a ottobre, non mi ricordo, 2019 o giugno, non mi ricordo quant'era. Ok? Quello che fa la differenza è l'allenamento, ma puoi forzare il tempo che ti serve per raggiungere comunque un miglioramento. Ok? Io ti do tre a quattro idee su come devi fare, poi ne scegli, ne parti una alla volta, però devi farlo. Ok? E' tutta roba che non è che ti fa saltare di gioia, ma non si scappa. Cioè, se uno vuol dimagrire, non ha scappatoi se non mangiare meno e allenarsi di più. Ok? Non ci sono pillole magiche. Allora, la prima, la prima cosa che ti consiglio è di tenere sempre la camera puntata. Dopo lo vedremo nel punto successivo. consiglio di crearti un set all'interno dell'ufficio. Ok? E soprattutto tenersi il set nell'ufficio, ma la telecamera sempre puntata, anche se spenta ovviamente, ma devi abituarti alla presenza della camera in maniera costante e continuativa. Ok? Sembrerà una cazzata, ma non lo è. Per cui fatelo e poi mi dite la situazione. Ok? Altra cosa importantissima è quello di esporsi continuamente. Per cui, se sei in un'agenzia, frequenti un corso di formazione, sei in mezzo a delle persone, sei al ristorante, sei dove sei, ok? In qualche maniera devi accentrare l'attenzione. Una cosa che io ho fatto per tantissimo tempo, ogni corso di formazione che andavo, anche in una situazione con 800-1000 persone, io ero uno di quelli che alzavo la mano e facevo la domanda, perché avevo la voglia di andare oltre a quello che è un limite naturale, che è quello di esporsi davanti a mille persone che ti guardano, mentre tu fai una domanda e magari hai paura che qualcuno dica che cazzata di domanda è. No, non è mai una cazzata di domanda, eccetera. Anzi, è una cazzata al fatto che uno avrebbe tante domande e non ne fa mai. Per cui, continuandoti ad allenare e esporti davanti a tante persone che va a dire, riunione della tua agenzia, alza la mano e fai domande. Vai a una riunione di formazione, un evento formativo, alza la mano e fai domande. Sei a cena, cerca di esporti, dire la tua, racconta quello che vuoi. Ti pone a una situazione dove sei sempre a un livello di esposizione alto, per cui diciamo 8 su 10. Nel momento in cui sei a un livello di esposizione 8-9 su 10, sempre, per cui sei sempre fuori dalla tua zona di comfort, indovina un po' cosa succede nel momento in cui sei davanti magari a una telecamera, che sei molto più preparato. Nel senso che nel momento in cui il livello invece davanti alla camera da solo è 6 su 10, 7 su 10, ok, come livello di difficoltà e di esposizione o di ansia, di stress, chiamatelo come voi vuoi, tu ti sei esposto talmente tanto che il tuo livello, ok, di sopportazione, passami il termine, e sei stato sottoposto a un livello di sopportazione così alto che il fatto di andare davanti alla camera fa sì che è una cosa molto più digeribile, molto più semplice, molto più fattibile, meno ansiogena, tutta questa roba qui. Cioè il blocco della camera è una delle cose dei pat... cioè non sapere più che cosa dire è una delle cose più deleterie. Come si sconfigge? Facendo così. Camera sempre puntata, a centrare l'attenzione, eccetera eccetera eccetera. Ok, mi ho segnato altre. Ecco altre cose importantissime sono queste, soprattutto io lo facevo all'inizio. Io sono sempre sul tema che quando vai a registrare tipo un video, un contenuto di questo tipo, devi andare molto a braccio. Sì ti crei due o tre appunti, ma devi andare abbastanza a braccio. Un consiglio che ti do soprattutto all'inizio è nel momento in cui decidi di parlare di un determinato tema, di un determinato argomento, scrivitelo. Ok? Per cui scriviti l'argomento. Per cui metti giù una bella paginetta per fare un video di sette, otto minuti, la scrivi. Dopo che l'hai scritta e ti va bene, a quel punto la registri con la tua voce. Crei per cui un file audio sul cellulare, va benissimo, e ti bombardi la testa, ok, per un giorno intero, ascoltandolo 1-2 ore, di quel contenuto audio. Ti spiego il motivo. Adesso non voglio entrare in un modulo troppo specifico su come funziona la testa, la mente conscia, inconscia eccetera, ma a un certo punto queste continue informazioni ripetute all'infinito, fanno sì che tu diventi consapevole della cosa, perché diventa parte di te, ok? Cioè diventa un argomento presente anche nella parte meno attiva del cervello, chiamiamolo così, quello che può essere definito il subconto. Ti faccio un esempio. La prima volta che hai guidato, tu guidavi e la tua attenzione era sposto il cambio, giro la ruota, come faccio questo, giro. Ok? Poi cosa succede? Dopo cinque anni tu questa roba la fai in automatico, perché quei concetti, quella modalità è diventata parte di te. Non hai più bisogno della mente conscia per fare questa roba qui, perché tutto è andato a un livello molto più inconscio. È chiaro che in un giorno si fa tutta questa roba qui, ma i contenuti, i momenti in cui sono assorbiti completamente dalla tua testa, diventa anche nell'esposizione molto più semplice far passare un concetto, ok? Per cui ribadisco scriviti l'argomento, registralo con un audio e ascoltatelo per tutto il giorno precedente rispetto a quando vai a registrare. Quando vai a registrare, se vuoi, fai un foglietto, non muore nessuno, o ti crei una mappa mentale ancora meglio, delle volte ce le ho, quando ho argomenti lunghi, dietro la camera che nessuno vede, due, tre, quattro, cinque appigli, tali per cui tu te li metti. Oppure in certe situazioni ti svela anche un trucchetto, quando ci sono tre, quattro, cinque punti, io qui nella lavagna, adesso non ce l'ho, mi scrivo a matita che posso vedere solo io i punti e a quel punto io mentre guardo così tu non vedi cosa sto guardando, ma in realtà sto guardando dei punti che mi sono segnato. Ok? Questo per cercare di farti dare, come posso dire, degli appigli tali per cui continui a parlare della situazione. Va bene? Per cui ribadisco, allenamento, tieni sempre la camera puntata verso te, accentra l'attenzione in ogni evento possibile, in modo da andare fuori dalla tua zona di comfort, per fare in modo che quando sei davanti alla camera è molto più digeribile, prepara la sessione dei video scrivendo prima una bella paginetta di tutto quello che hai da cantare, ascoltando il filo audio. Ok? Molto bene. Un'altra cosa problematica per molti. Ok? Allora qua parto subito da questo, anzi non è problematico. Il set. Non c'è nulla di più vero, soprattutto all'inizio, di andare a registrare solo in tua presenza. Ok? Nel momento in cui tu vai a registrare un contenuto e c'è altre persone, una o due persone, in questo caso c'è il mio videomaker, eccetera, e è chiaro che soprattutto all'inizio ti mette nelle condizioni di avere, come posso dire, di non essere proprio rilassatissimo. Qualcosa che ti può aiutare è il fare tutto questo in autonomia. Ok? Che significa l'autonomia? Che tu fai un bel investimentino, boh, non mi ricordo quanto ho speso all'inizio, 700 euro, forse meno. Ok? Ti crea il tuo bel set fisso in ufficio. Se hai un broker chiedi a lui, insomma, a disposizione di tutto. Ti prendi il tripod, la camera, l'audio, due luci e fai in autonomia. Quando te la senti, quando senti che è il momento giusto, accendi la camera, il set è sempre pronto e vai. Perché, ragazzi, ribadisco, all'inizio il fatto che ci siano altre persone che vi guardino mentre state registrando non è così, come posso dire, già detto altre volte, digeribile. Il fatto che sei tu da solo con la camera è una cosa che aiuta abbastanza, aiuta abbastanza. Sempre il tuo set e, come ti ho detto prima, camera puntata su Ita. Va bene? Poi, andiamo avanti, andiamo avanti, vediamo cosa mi ero segnato. Ok. Ecco. Ok, come lo possiamo riassumere? Silenzio. Una delle cose che può creare tensione e paura è quando, durante un video, o ti dimentichi qualcosa, oppure non ti vengono magari le parole e c'è quella sorta di silenzio, ecco quello che non può succedere durante un video che non hai più niente da dire. Quindi, il mio consiglio, siccome capita a tutti, ragazzi, questa roba qui, nel momento in cui stai percependo che non hai più l'argomento successivo nella testa, i due consigli che ti do sono questi. Il primo, rallenta quando stai per arrivare alla fine dei tuoi pensieri. Ok? Questo ti dà modo di poter andare a recuperare nella testa, con più camera, magari il punto che era successivo, se non te lo sei segnato qui, eccetera eccetera. Un altro suggerimento che ti posso dare è quello di tenerti degli argomenti di riserva, delle piccole storielle. Ok? Quando senti che stai arrivando al dunque, alla fine, che non sei più, adesso che cavolo dico, diventa un casino. Cerca di tirare fuori una di queste storielle nella tua testa, che partono sempre, mi ricordo una volta, oppure l'altro giorno parlavo con e fai emergere la tua storielle. Chiaro, non ti posso raccontare la storielle, io ho le mie, però comunque è molto importante come argomento di riserva per evitare, insomma, di andare nel panico totale. Ecco, queste due cose qui, rallentare quando sta per finire l'argomento, piuttosto che avere delle storielle pronte da tirar fuori, per dare modo alla testa, di andare a ripescare nel tuo cassetto mentale l'argomento successivo a quello che dovevi fare, è una cosa molto importante. Rallenta e pensa a qualcosa pronto all'uso. Ok? Altra cosa importantissima, ok, ed è l'ultima, non ce n'è una otto, mi ero sbagliato, l'otto è la cosa che vi devo dire, ok, è che devi essere polarizzante. Come? Allora, innanzitutto, ve l'ho detto prima, cosa significa essere polarizzante? Essere una persona che tiene attaccate le persone al contenuto che stai dicendo, per cui crea attenzione, crea interesse e crea tutto quel presupposto per tenere legate le persone a loro, continuando, insomma, a seguirlo ed essere curioso di quello che dice. Vi dico come si può fare. Vi dico subito che non è semplice, ok, è una cosa importante, ma ci sono dei partner comuni per tutte le persone polarizzanti che conosco. La prima, ok, bisogna avere una comunicazione netta. Ok? Cosa significa? Che essere troppo romantici, non prendere mai una posizione, non esporsi mai, non dire mai esattamente quello che si pensa, rimanere tutto un po' figlio dei fiori, è una roba che non funziona. Ok? Ve lo dico, ecco, non interessa questa roba qui, ok? Quindi cercate di avere una comunicazione netta, cercate di prendere delle posizioni per fare in modo che uno che ascolta magari non è con te, cioè non la pensa come te, oppure succede che nel momento in cui c'è qualcuno che la pensa come te, tu vai a creare con questa persona un rapporto. Tu non devi piacere a tutti, devi piacere a una parte delle persone, ma tantissimo, non poco a tanti, ma poco a tantissimi. Questo è fondamentale nel momento in cui insomma si vuole creare un rapporto, un legame con una persona. Altro esempio su come essere polarizzanti è che bisogna avere, insomma, bisogna dire quelle cose che le altri agenti immobiliari hanno paura di dire, ok, ma sanno che sono vera. Questa è una cosa importantissima, ribadisco, dire cose vere che nessuno vuol dire, nessuno ha coraggio di dire, coraggio di dire. Ok, voglio farvi un esempio. Sappiamo benissimo noi agenti immobiliari che nel momento in cui il tuo piano di marketing per il 70% e prendo l'incarica e faccio pubblicità su un portale come immobiliare.it, se lo può fare benissimo anche un proprietario. Parlo di marketing, poi c'è altre cose, ok. Quindi questa è una cosa che sanno tutti che è vera, ma tutti fanno fatica di dire. Oppure il fatto esattamente di qual è la trattativa media, piuttosto che altre situazioni, ragazzi, ok. Per cui il fatto di essere polarizzanti, ribadisco, si ha una posizione netta nelle cose, dei pensieri, dire quelle cose che nessuno vuole dire e farlo senza preoccuparsi troppo di quello che può essere la reazione delle persone. È chiaro che ti può creare un po' di problematiche, nel senso che ovviamente ci sarà qualcuno che a quel punto ti prenderà in strina, ne avrà di tutti i colori con te, eccetera, però fa parte del gioco. Non conosco nessuno che è arrivato a un certo livello, che non ha degli haters, piuttosto che delle persone che gli rompono le balle, piuttosto che situazioni comunque di questo tipo, ok. Però conosco invece tantissime persone che sono tutte all'acqua di rose, fiori di bac, tutta sta roba qui che non se le fuma nessuno e sono sempre nel loro sgabuzzino da dieci anni a questa parte, ok. Queste erano un po' le sette cose importanti, sto guardando se avevo altre cose da dirti, ok. Bene, no, era un pochino questo, per cui devi saperne, cerca di essere naturale, cerca di avere un atteggiamento corretto davanti alla camera, pensando appunto di avere di fronte, non una camera, ma un tuo cliente passato che ha molta stima di te e cerca di fare tutte le volte che puoi, tutto l'allenamento che puoi, perché è quello che ti aiuta comunque a migliorare e cercare ogni mese, ogni anno di fare sempre di più. Cerca di crearti un set all'interno del tuo ufficio, perché crea una zona di comfort un pochino migliore. Cerca di avere sempre la percezione di quanto stai finendo le parole e rallentando sul finire, piuttosto che creare delle storielle, delle situazioni che ti puoi tirare fuori all'occorrenza. Settimo punto, devi essere polarizzante, per cui, ti ricordo per farlo, devi prendere delle posizioni nette, devi prendere una posizione, questo è il primo discorso, devi ricordarti e sforzarti di dire tutto quello che nessuno ha il coraggio di dire, anche se è vero nel tuo settore. È ovviamente la cosa più difficile, ma ribadisco, qua ci si va a giocare tutta l'attenzione comunque del pubblico, che è bombardato da diversi contenuti continuamente e sarà sempre di più, essere polarizzante è quello che fa accendere la lampadina sopra la tua testa. Benissimo, quello che ti volevo accennare è che i tre video che mi ho visto e che ci hanno ottenuto insieme in questi giorni è solo un piccolo estratto, sono veramente delle piccole cose rispetto a tutto quello che io insegno all'interno del mio corso di bandiera che è Obiettivo 100 Transazioni. Parliamo di un corso per agenti immobiliari che ha aiutato centinaia di agenti immobiliari, gente che fino a un anno fa non sapere neanche così era un'esclusiva, vai a vedere ovviamente le testimonianze, a trovarsi in una situazione di overbooking, cioè troppi incarichi in esclusiva da poter gestire e dover prendere comunque delle nuove persone. Oppure gente che fino a pochi mesi fa aveva un coefficiente di chiusura tra presentazione in carico del 20% e adesso è arrivata all'80% fino al 90%, alcuni stanno facendo anche meglio di me. E le persone di cui ti sto parlando non è che erano persone che non avevano voglia, erano dei perfetti ignoranti eccetera, erano semplicemente persone che non avevano le informazioni corrette come non avevo io ai tempi di andare a studiare negli Stati Uniti, Canada e Portogallo per fare la nostra attività. Per cui non era colpa loro come ai tempi era colpa mia, era semplicemente perché non avevano le informazioni giuste. Il tema però è che bisogna prendere una decisione, cioè bisogna decidere se accettare questa cosa o meno perché arriveranno i 40, arriveranno i 50, arriveranno i 60, poi è finita ragazzi, ok? Per cui se è a cuore il tuo futuro puoi fare un salto nella tua vita, prendere più incarichi, fare più transazioni, realizzare quello che nella vita comunque ti interessa, quelle che sono le tue passioni, i tuoi hobby, c'è una cosa che devi fare, devi prenderti a cuore il tuo futuro perché il futuro è il posto dove andrai a vivere. Ti lascio il link per Obiettivo Centro Transazioni a un prezzo scontato oppure chiama al numero verde 800-801-477. Ci vediamo a Obiettivo Centro Transazioni. Ciao ragazzi!